Io ho scelto di fare il liceo linguistico e ho studiato al Gadda. Mi sono trovata bene, però allo stesso tempo sono stata anche io che mi sono impegnata all'interno del mio percorso di studi, quindi magari rispetto ad altri ho appreso determinate cose piuttosto che altre. Dopo le superiori, diciamo che ho scelto un percorso che non necessariamente è magari il più consigliato dai professori, considerato anche il fatto che nel mio indirizzo linguistico generalmente vengono consigliate delle facoltà differenti. Ho preso un po' la mia scelta per conto mio in base a quello che ho visto che mi interessava fare, più che altro pensando a quello che avrei poi voluto fare in futuro nel mondo del lavoro e quindi ho deciso di basare la mia scelta su un hobby che avevo. Sto studiando al momento in un'accademia di belle arti a Rotterdam che si chiama Willem de Koenig. Sto studiando qui da un anno e mezzo ormai. Il mio percorso di studi è facoltà di fotografia. La scelta dell'accademia non è stata influenzata dal mio semestre all'estero del quarto anno perché quello invece è stato in Canada. Però allo stesso tempo un pochino forse mi è venuta l'idea di andare in Olanda o comunque cercare qualcosa in Olanda perché la mia madre ospitante aveva origini olandesi. Ho guardato un po' dappertutto, principalmente in Europa per questioni di costi ovviamente, ma nel momento in cui poi ho fatto la mia scelta effettivamente non mi sono basata tanto sul paese in cui mi sarei dovuta trasferire quanto sull'accademia che stavo scegliendo e nella mia ricerca ho proprio appunto trovato questa accademia. Mi è interessato la loro modalità di educazione in sostanza. In un'accademia d'arte in Italia, ad esempio, le valutazioni sono come in qualsiasi altra università, quindi dall'1 al 30. Valutare un progetto creativo con valore numerico, non lo so, nella mia testa non ha particolarmente senso. Invece qui le valutazioni si concentrano molto di più invece sulla crescita, quindi le valutazioni sono concentrate principalmente sul progetto specifico e sulla persona specifica, che era la cosa che principalmente mi ha interessato. La decisione invece dell'andare all'estero è stata basata sul fatto che sapevo che non sarei voluta rimanere in Italia per questioni di opportunità lavorative, perché in Italia del mondo creativo ci sono molte meno opportunità rispetto a qui, secondo me. per quanto riguarda i costi, ovviamente sono abbastanza alti, però nulla di troppo diverso da Milano, ad esempio. Dai 400 ai 700 per una stanza condivisa, una casa condivisa, quindi una stanza privata. E per quanto riguarda invece il resto, quindi la vita, le spese alimentari, eccetera, non sono particolarmente diversi. La tassa universitaria qui è un po' differente, nel senso che in Italia ci sono le opportunità di pagare secondo l'ISE, qui invece tutti pagano lo stesso, che per il primo anno è dimezzato, quindi sui 1000 per tutto l'anno, invece da secondo anno in poi 2000. Io quando mi sono trasferito ho avuto l'aiuto di una borsa di studio che avevo ricevuto per il mio voto di uscita dalle superiori, quindi è stato molto più semplice, però allo stesso tempo credo che ci siano molte opportunità lavorative e ad esempio una cosa che non abbiamo in Italia è il salario minimo, quindi se uno si vuole trasferire può benissimo cercare un lavoro, ovviamente un lavoretto e ce la può fare tranquillamente. Per quanto riguarda invece quello che studio io qui e come sono strutturate le mie lezioni, le mie seconda dell'anno e del semestre. Abbiamo tre periodi, tre cicli all'interno dell'anno, il primo che può essere effettivamente considerato come un semestre perché va da inizio settembre fino a metà dicembre insomma e poi viene fatto un esame finale che è basato su un progetto nonostante comunque ci siano altri compiti da fare durante l'anno. La mia accademia è principalmente internazionale, ci sono degli studenti olandesi ad esempio nella mia classe 5-6 studenti olandesi su 30 e appunto le classi sono abbastanza piccole comparate invece alle nostre università. Studio appunto fotografia, durante la settimana abbiamo sempre una lezione di pratica. Quando abbiamo le lezioni di teoria comunque è concentrato sulla fotografia, però tutte le pratiche artistiche sono abbastanza amalgamate. Anche i professori sono consapevoli e vogliono farti capire che nonostante tu stia facendo questo non sei obbligato per il resto della tua vita a fare foto o fare mostre di fotografia. All'interno della mia accademia ci sono delle aule condivise in cui ci sono dei professori fissi che possono aiutarti nelle diverse pratiche, ad esempio c'è l'aula di stampa oppure di ceramica, fashion e così via. È molto semplice per noi studenti se vogliamo approfondire una determinata pratica che ci interessa, andare e farci spiegare come utilizzare i macchinari che ci sono a disposizione e così via. Il percorso di studi dura quattro anni. Il primo e il secondo anno sono quelli in cui si passa più tempo qui in accademia. Poi il terzo anno è suddiviso tra metà anno di tirocinio e l'altro metà anno invece sempre qui in accademia con le solite lezioni. Quarto anno invece è solo percorso di laurea, quindi concentrato sul creare il progetto finale, la tesi e così via. Per quanto riguarda le prospettive future dipende da persona a persona perché è capitato ad esempio che persone che iniziassero a fare fotografia poi si interessassero di più in fashion design, graphic design. Questa è una cosa possibile specialmente perché il tirocinio nel terzo anno viene fatto decidere a noi. Quindi noi lo scegliamo, dobbiamo cercare qualcuno con cui collaborare e diciamo quell'anno è il più decisivo per quanto riguarda poi l'introduzione al mondo del lavoro perché effettivamente veniamo introdotti al mondo del lavoro e siamo noi che decidiamo che cosa fare. Tutti i nostri professori sono molto collegati al mondo esterno, al mondo creativo e qualsiasi iniziativa loro trovino ce la propongono. Ad esempio l'anno scorso sono riuscita a partecipare a una mostra in Finlandia che io personalmente non avrei mai pensato di fare dopo il primo anno di università e quindi è stata una grande opportunità a mio parere. Per quanto riguarda invece il titolo di studi, il titolo di studi è una laurea vera e propria in fotografia. È una domanda abbastanza difficile perché ci sto ancora pensando. Infatti l'anno scorso ho avuto qualche dubbio sul continuare il mio percorso di studi qui, smettere di fare fotografia e invece andare a fare la facoltà di fisica. Quindi probabilmente dopo aver terminato questo percorso di studi mi piacerebbe anche intraprendere il percorso di fisica. Però allo stesso tempo nel mentre mi piacerebbe provare a lavorare in ambito creativo. Mi vedo principalmente come magari una fotografa di reportage, lavorare per qualche magazine che mi permetta di spostarmi perché l'unica cosa che so è che per il momento, almeno per i prossimi dieci anni, non mi piacerebbe già stabilirmi in un posto e passare il resto della mia vita lì.